All'Ibisco All'Ibisco si giocava anche, si è vero, si giocava, si scherzava, si ballava, si ascoltava musica, ma era una polisportiva l'Ibisco, abbiamo partecipato ai tornei del Bo con la squadra dell'Ibisco, c'avevamo un campo dietro, il calcetto non esisteva, ma noi avevamo un campo regolamentare dietro, dove ci vedevamo il pomeriggio, le porte ben fatte, le uniformi, tutti con la maglietta precisa, questi sono i ricordi dell'Ibisco, il livello era molto alto, l'agonismo pure, qualcuno ci rimaneva anche per terra e purtroppo non si doveva più alzare, l'uomo lasciare lì, e beh sì, l'Ibischero si doveva formare, l'Ibischero doveva essere indistruttibile, questo è un vero Ibischero, però, anche Ibischero, chissà se questa parola c'è sul vocabolario della lingua italiana, buonasera Ibischero, puntatona stasera, Taro e Tolesto del Bobo tornano in campo, abbiamo qui un ospite stasera, che ci diranno come vogliono affrontare questa partita, abbiamo qui un ospite stasera, un giocatore del Taro.